Sposti gli oggetti del modello utilizzando le frecce all'interno del maniglione. Inserisci un valore tramite la tastiera per spostare un elemento. Inserisci un valore tramite la tastiera per ruotare un oggetto. Clicchi sul pulsante Aggiungi oggetto, presente nella toolbar. Individui l'oggetto desiderato nella libreria utilizzando la barra di ricerca. Indichi la struttura spaziale e la classe da assegnare all'oggetto. Posizioni l'oggetto all'interno del modello IFC. Rimuovi un elemento dal modello utilizzando la funzione Cancella oggetto. Fui. Grazie a tutti.